Era una partita importante, è arrivato il risultato ed è arrivata anche la prestazione, come ha visto i suoi ragazzi in campo abbastanza cattivi questa volta? Sì, sicuramente sì, era una partita importante perché eravamo riduci da pochi punti fatti nelle ultime cinque partite, quindi evidentemente era importante ricominciare a fare punti e a fare vittorie. Ho visto una squadra molto vogliosa di far bene, di vincere, pur essendo partiti poi in svantaggio con quell'azione in contropiede e quel bel gol di Barella, però poi abbiamo reagito molto bene facendo subito gol e poi creando nel secondo tempo una marea di azioni da gol e facendo gol con Obi, quindi direi veramente una partita che ha dimostrato che la voglia di vincere c'è, c'è tutta e la squadra ha fatto una buonissima partita. Questi tre punti fanno arrivare il Torino in una posizione assolutamente adeguata per la squadra, quindi subito dietro alla Sampdoria, 16 punti, quindi nelle squadre che contano? Sì, siamo a pari merito con il Milan e con la Fiorentina al settimo posto, quindi un buon risultato, si poteva anche fare di meglio, però certamente già è un buon risultato e io credo che si possa oggi continuare. Certo domenica c'è una partita impegnativa a San Siro con l'Inter, ma credo che sia un bel test importante che i ragazzi affronteranno con lo spirito giusto e con la voglia di fare bene come si è fatto oggi, con la voglia di vincere che è la cosa più importante per ottenere risultati. In queste settimane si è detto che il calendario è stato favorevole per il Torino, ma in realtà è stata affrontata la Juventus, la Roma, la Fiorentina, quindi squadre importanti, la Sampdoria, perciò la prestazione del Torino lei come la considera anche alla luce di questo? Ma io credo che avere 16 punti è già un buon risultato, si poteva avere qualche punto in più, se io penso soltanto alla partita col Verona in casa dove si vinceva 2-0 e si è pareggiato, evidentemente lì sono due punti in più che potevano essere importanti per noi, però abbiamo affrontato giustamente come diceva la Juventus, la Roma, la Fiorentina, la Sampdoria, un buon Bologna all'inizio e quindi comunque sia alcune partite impegnative ci sono certamente state. E questo ovviamente testimonia il fatto che abbiamo raggiunto una buona posizione, oggi dobbiamo semplicemente continuare, poi le partite a volte sono impegnative più o meno a seconda di come sei tu e quindi credo che avere visto un Toro oggi così determinato, così concentrato e così compatto credo che sia una cosa importante che può essere di buon auspicio per il futuro. Grazie a tutti.